Grazie. Grazie per le vostre testimonianze. Grazie per le vostre provocazioni. Grazie a tutti quanti voi per l'ascolto e per la presenza. Vorrei partire per questa riflessione dalla parola del Vangelo che noi questa sera abbiamo ascoltato. Il Vangelo dice che tutti gli occhi sono fissi su Gesù. E sono occhi che scrutano, occhi che chiedono, occhi che giudicano, occhi perplessi. E sono anche occhi inquieti, occhi di scettici, occhi di amici. Come splendono quegli occhi e quanto pesano. E in questo momento questi occhi me li sento addosso io. Ma io non ho come Gesù la forza di sostenerli. Dio sa come vorrei, in questo giorno così importante, stare seduto dalla vostra parte, all'onda dei richiami, all'urto della parola, e lasciarmi scavare il cuore dalla bellezza di questo incontro. Lo Spirito Santo, scrive Luca, riprendendo Isaia, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. E allora la domanda importante, il senso di questo incontro e di questo nostro cammino sinodale. È su di me che devono essere appuntati gli occhi, ma non piuttosto su di Lui che ci parla, che ci innamora, che ci tormenta, che ci libera. Ho ricevuto soltanto io l'unzione dello Spirito? O non siamo stati tutti quanti noi, popolo di consacrati, ad essere spinti per questo annuncio di liberazione ai poveri, agli oppressi, ai prigionieri? Allora voglio sedermi accanto a voi, immergermi nel flusso del sacerdozio profetico e regale del popolo di Dio e semmai, in forza del mio sacerdozio ministeriale e del mio servizio episcopale, aiutarvi, aiutarvi tutti a puntare gli occhi su di Lui. Sì, gli occhi su di Lui, il Signore della nostra vita e della nostra storia. Ma stare anche accanto a voi per cogliere la speranza, per costruirla alzando ponti e non muri, per tracciarne una strada e soprattutto per fattessere la rete che essa stessa genera nel cuore. Il Signore è il Dio che ha posto il suo fine al di fuori di se stesso, il cui fine è l'uomo, la cui passione è l'uomo. Anzi, la passione di Dio è il povero, è il cieco, è il prigioniero, è l'oppresso. E ricomincia dalla periferia della terra, dai sotterrani della storia, da coloro che non ce la fanno, una nuova creazione. Fratelli e sorelle, Dio non è nella rigidità. Dio non è nel trattenersi. Dio non è nel chiudersi. È nello sbilanciarsi, che è lo sbilanciarsi dell'amore. E si rivolge a tutte le povertà, alla fame di pane e a quella di senso. E colma la vita non di cose, ma di persone, da amare. In quella sinagoga di Nazareth, come questa sera in questa piazza, a partire dalle testimonianze che abbiamo ascoltato, è l'umanità che si rialza, che riprende il filo della corrente, verso la gioia, verso la luce, verso la libertà. Non per propria forza, ma per un seme di luce venute d'altrove. E Dio è il suo vento. Mi ha mandato per predicare un anno di benevolenza del Signore. Un anno, cioè un secolo, mille anni, una storia intera, fatta sola di benevolenza e di tenerezza di Dio. E noi a tentare di prolungarla. Chiesa di Napoli. Ora sai da dove ripartire. Dalle periferie. Dagli uomini del pane amaro. Dagli affamati di tenerezza. Dagli esclusi. E ricomporre in unità i frammenti di questo mondo esploso. Isaia esprime la speranza del popero. Desideroso che il Messia venga a prendersi cura dei poveri, scoraggiati da tante cattive notizie, feriti nel cuore più che nelle membra, trattati come prigionieri dagli interessi dei potenti. E annuncia che l'unto, quando verrà, trasformerà il popolo desolato in un popolo sacerdotale. E consolandolo con la buona notizia, lo renderà annunciatore di buone notizie per gli altri popoli. medicando il cuore ferito dei fedeli e liberandoli da ogni schiavitù, li farà ministri della riconciliazione e della libertà, trasformando i loro abiti al lutto con odio di letizia, farà sì che tutti li riconoscono come stirpe benedetta del Signore. E Gesù, nel passo di Luca ascoltato, concentra in sé e fa sua questa speranza. Ne fa un evento del presente. Egli è la fonte costante di questa grazia sacerdotale, sempre disponibile a chi si decide a mettere nelle sue mani la sua fragilità, a chi crede che nell'oggi di Gesù si compiono la scrittura e ogni aspirazione umana. Carissimi, il Vangelo, allora, sia la nostra predicazione, la nostra catechesi, la nostra radice delle scelte quotidiane, sia tutto fortemente, unicamente, inesorabilmente, ancorato e basato sul Vangelo. Ma la testimonianza è di tutti, è per tutti. A ciascuno di voi, popolo di Dio che mi è stato affidato, sento di dire che il compito sacerdotale di Cristo non si è trasferito solo su un gruppo di persone, ma su tutto il popolo di Dio. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio, l'intero popolo di Dio, cioè ognuno di noi, deve sentirsi unto del Signore e chiamato ad annunciarlo per le vie del mondo, a partare la sua speranza, la sua grazia, il suo amore. Mi sento un viandante e accanto a voi voglio camminare, con la gioia nel cuore, verso la terra dei nostri sogni, e il sogno lo ha disegnato a Firenze Papa Francesco. Mi piace, ha detto Papa Francesco, una chiesa inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidono una chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna e accarezza. Sognate anche voi questa chiesa, Crenete in essa, innovate con libertà. Fratelli e sorelle, questa è la chiesa che io sogno di abitare. Una chiesa dalle porte aperte a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di lei. Una chiesa dove non si celebrano soli i riti, ma dove si viva e si celebra la vita delle donne e degli uomini, intrisa di gioie e di dolori. Una chiesa in uscita, samaritana, libera, fedele al Vangelo. Una chiesa povera, una chiesa sinodale, in ascolto dello Spirito Santo. Sogno in questo momento, dopo ciò che abbiamo ascoltato, il cuore di una chiesa madre, che nel suo grembo genera, fa crescere, cura e fa sbocciare vita per la vita. E perciò desidero una chiesa che lavi i piedi agli uomini e alle donne, senza chiedere nulla in cambio, neppure il prezzo di credere in Dio, o il pedaggio di andare a messa la domenica, o la quota di una vita morale meno indegna e più in linea con il Vangelo. Una chiesa realmente prossima è una chiesa aperta che abita lo spazio della prossimità nel modo dell'accoglienza, scevra di previe garanzie. E allora, e vale per tutti, prima di decidere cosa fare, c'è un tempo di ascolto, di comprensione della realtà, dare tempo all'altro, darsi il tempo di incontrare l'altro, il tempo del riconoscimento nella reciprocità. Non è il sentimento di un momento, ma è il segno di ciò che siamo diventati, ed è ora il segno del futuro che desideriamo costruire. La prossimità, fratelli e sorelle, non si insegna, la si riconosce, la si racconta, la si sperimenta. Nell'amore, l'umanità ancora ferita, deturpata, violentata e trasfigurata. Conosco sacerdoti e religiosi che sanno consegnarsi nel silenzio della gratuità, che fanno della vicinanza alla gente la ragione stessa della loro vita. Incontro tanti, ogni giorno, impegnati nel sociale, che indossano ogni giorno il grembiule del servizio. Operatori e operatrici pastorali, che nel nascondimento di un'esistenza apparentemente inutile, danno il loro tempo per accompagnare coscienze a loro affidate. E' la Chiesa che non ha potere, una Chiesa che non conta, una Chiesa che non si difende, non si nasconde dietro falsi moralismi e strategie pastorali, ma riflette l'immagine della Chiesa Comunione in continua ricerca delle coordinate conciliari che la rendono comunità, che sa camminare e vuole camminare insieme, costi quel che costi, è la Chiesa del grembiule. Questa Chiesa da stasera invoca una profezia, uscire fuori e gridare una parola che doni libertà e capacità di vicinanza vera, di compagnia autentica. Ripartiamo, ma per davvero, dal Vangelo. Attenti! Gesù ha detto che la pietra scartata dai costruttori sarebbe divenuta testata d'angolo. Sento il bisogno di chiedere, a cominciare da me stesso, come mai abbiamo proclamato al mondo una Chiesa dei poveri ed i nostri poveri continuano a rimanere sull'uscio delle nostre chiese, senza entrare, senza trovare spazi. Forse perché sono rumorosi e non sanno parlare. Anche i bambini attorno a Gesù erano rumorosi e gli apostoli cercavano di allontanarli, ma Gesù li accorse. Anche il cieco urlava e tutti cercavano di zittirlo perché disturbava, ma Gesù a quel grido si fermò. Anche la prostituta disturbò la cena lavando con le sue lacrime i piedi di Gesù, ma con il suo modo di parlare e di agire Gesù ha capovolto tutti i canoni di un galateo che mette i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Anche il figlio maggiore di quel padre si lamentava perché lui era stato bravo, non aveva sprecato le sostanze, eppure la festa, le lacrime sul viso, il vitello grasso, il vestito più bello e le danze erano state riservate per l'incontro tra il padre e il figlio che si era perduto. Carissimi, vi prego, vi prego dire nelle nostre celebrazioni che il Dio di Gesù Cristo e il Dio degli uomini, dei deboli, dei poveri esige il coraggio della coerenza, chiede la forza di ripetere le stesse cose fuori dal Tempio, testimoni oculare del grande messaggio che lo Spirito ci dona e ci consegna. È il messaggio che ci invita ad uscire allo scoperto, ad uscire fuori dalle nostre prudenze e comode certezze, perché solo quando la fede esce dalle sacrestie, a servizio dell'uomo nel nome del Vangelo, recuperando la grazia della chiarezza, senza sfumare le finali per paura del quieto vivere, solo allora la fede è credibile. Quando noi celebriamo l'eucharistia, noi facciamo memoria di colui che è stato portato via dalla città, fuori le mura, insieme agli emarginati della società. Come potremmo dirci cristiani come potremmo vivere del pane eucaristico senza andare verso tutti coloro che sono espulsi, che sono spinti ai margini, ma anche verso coloro che si sono allontanati per sfiducia, per stanchezza, per perdita di speranza, senza abbattere le barriere che separano e creano gli esclusi, che alimentano la miseria, che creano i poveri. Ecco perché nella mia vita io ho sempre sentito il servizio ai poveri, lo stare in mezzo a loro e l'adorazione eucaristica come volti complementari di uno stesso significato. Quell'ostia che noi adoriamo rimanda a quelle mani che bussano e quel pane spezzato rinvia quel bisogno di giustizia sociale che scuote il mondo. La nostra credibilità cristiana non ce la giochiamo in base alle genuflessioni davanti all'ostensorio, ma in base all'attenzione che sapremo dare al corpo e al sangue dei giovani disoccupati, di chi sta perdendo il lavoro, di chi fa fatica, di chi soffre, di chi sente smarrito. Perché sono gli ultimi che ci consegnano tra le mani il valore e la speranza della nostra vocazione missionaria e agli ultimi che il Signore affida il sogno di una Chiesa fedele al Vangelo che fa della condivisione il sale di ogni progetto pastorale, che non confida nelle strutture e nei programmi, ma nella misericordia del Padre. Non riesco a pensare al mio sacerdozio senza ricordare il volto dei poveri, dei sofferenti, degli emarginati che hanno convertito la mia vita dall'illusione di garanzie che non hanno nulla a che fare con il Vangelo di Gesù. Non riesco a pensare al Cristo senza il bene seminato nella mia storia da tanti laici, uomini e donne e preti impegnati dalla parte degli ultimi. La presenza dei poveri in mezzo a noi non è frutto del caso, ma conseguenza dello strutturarsi peccaminoso di relazioni. Le nostre comunità hanno bisogno di una presa di responsabilità condivisa. I poveri ci sono e dobbiamo chiederci perché continua ad accadere. La pandemia e questa guerra assurda stanno accentuando l'inconsistenza di un sistema malato che protugge solo morte. Non possiamo più chiudere gli occhi, non possiamo più rimandare, dobbiamo scegliere quale stile di vita preferire. La nostra fede ci chiede onestà di sguardo. Una chiesa che si desidera povera, sinodale, in senso permanente di missione, è chiamata ogni giorno a compromettersi con la vita, con il Signore, con le fatiche degli uomini e delle donne di questo nostro tempo, ad avere il coraggio di investire nei giovani, perché investire nei giovani significa scommettere e credere nell'inedito di un Dio che non invecchia mai. Il discepolo di Gesù non fugge la povertà e i poveri, li sceglie. questa cura radicale da vivere e da scegliere è il segno più vero dell'amore di Dio in noi. Per questo siamo chiamati ad abitare la complessità di questo nostro tempo. Se accogliamo la speranza dei poveri e impegniamo la nostra vita ad ascoltarle e a metterle in pratica, si rivelerà a noi al mondo intero la giustizia di Dio. Convertire lo sguardo vuol dire riconoscere l'efficacia della vita del giusto, dei crocifissi della storia, quale lievito di cambiamento, annuncio della vita compiuta nel far vivere. Per questo al povero spetta sempre il primo posto per giustizia. Siamo chiamati fratelli e sorelle ed è il senso di questo incontro di questa sera a vivere nell'orizzonte di un sogno un sogno di chiesa che sa liberarsi dalla tentazione della sopravvivenza un segno di annuncio vissuto con fiducia e con coraggio un sogno di formazione per essere più veri e credibili un sogno di testimonianza capace di sporcarsi le mani con la vita e le fatiche di ogni giorno allora è il tempo di essere credenti inquieti resitali dal vangelo dall'incontro con il signore dall'urgenza che questo incontro fa nascere dentro ciascuno di noi c'è un testo bellissimo di non tonino bello è una preghiera è la preghiera dell'addio alla sua terra di origine e del viaggio verso un altro mare quello di molfetta che lo aspetta come vescovo don tonino è solo intorno a lui c'è solo silenzio che favorisce il silenzio dentro la dimensione del silenzio è un esercizio per imparare a guardare oltre ma noi facciamo molta fatica a fare silenzio forse per questo viviamo un tempo di sogni già consumati nel loro nascere perché non hanno fondamenta ma solo altezze che durano il tempo di una stagione scriveva don tonino davanti a me c'è il mare un mare senza vele e senza sogni domani signore avrò la forza di pregarti per il male per questo mare di piombo che mette paura questa sera ti chiedo tre cose dai a questi miei amici e fratelli la forza di osare di più la capacità di inventarsi la gioia di prendere il largo il fremito di speranze nuove il bisogno di sicurezze li ha inchiodati ad un mondo vecchio che si dissolve così come ha inchiodato me su questo scoglio stasera col fardello pesante di tanti ricordi dai ad essi signore la volontà decisa di rompere gli ormeggi per liberarsi da soggezioni antiche e nuove stimole in tutti e nei giovani in particolare una creatività più fresca una fantasia più liberante e la gioia turbinosa dell'iniziativa che riponga al riparo da ogni prostituzione carissimi sembrano richieste che sono come degli auguri che potrebbero sembrare di circostanza se non fossero seguite dalla fotografia impietosa che Don Tonino traccia della comunità che lascia e ricorda i poveri i malati i vecchi gli esclusi parla di chi ha fame e non ha pane ma anche di chi ha pane e non ha fame per chi si vede sorpassare da tutti per gli sfrattati per gli alcolizzati per le prostitute per chi è solo per chi è stanco per chi ha mai nato le vele per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore da questo passaggio io mi domando e vi domando quanto noi conosciamo la nostra realtà e la situazione nella quale siamo l'immagine poetica chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore è una metafora vera che dice di una sensibilità che coglie la prossimità con delicatezza che non vede la fotografia per giudicarla ma per cogliere le sfumature il ferme immagine che mette insieme tutti i particolari in questa preghiera in una notte dove il mare è senza vele e senza sogni basta la luce di una lampara vista in lontananza a dire slancio e far dire a Don Tonino adesso basta signore non ti voglio stancare è già scesa la notte ma laggiù sul mare ancora senza vele senza sogni si è acceso una lampara che cogliamo fratelli e sorelle in quel dire basta basta quale postura abbiamo la postura non del ripiegamento ma quella dell'affidarsi al barlume di una luce che si coglie da lontano per intraprendere il viaggio rompere gli ormeggi che ci fanno stare in acqua ma ben ancorata della terraferma siamo spesso in questa nostra dimensione di ambivalenza timorosi di osare che è un segno di invecchiamento la postura è quello che ci dice il termometro della nostra audacia della nostra dismissione dai sogni ma come si coltiva allora la dimensione del sogno perché per questo siamo qui stasera è una domanda che ci prende soprattutto quando facciamo i conti con la stanchezza che tante volte ci travolge come come si coltiva la dimensione del sogno in un solo modo facendo vuoto di potere e riempendolo di azioni che possono generare comunità mi spiego c'è nella chiesa un immaginare se stessa per conservazione e per riproducibilità di ruoli e di azioni la certezza dell'esistente diventa a volte l'unica e la sola condizione per autodeterminarsi occorre il coraggio di fare vuoto di potere per generare servizio cioè cambiare i simboli oltre la mitria il pastorale l'anello anche il catino la brocca l'asciugatoio che nella chiesa sono simboli antichi precedenti agli altri simboli perché non si sprigiona il sogno inventando ma andando alle radici e ridando ai simboli il loro vero valore di senso le ferite nelle quali incarnare parole e gesti di speranza non sono occasionali e marginali ma sono strutturali il vuoto che simboli del potere hanno generato nelle comunità ancorate a riti svuotati di senso ha bisogno di nuovi simboli che dicano pratiche di comunità vive vedete amici miei non è la stessa cosa parlare di giustizia dall'alto delle nostre sicurezze sociali ed economiche o farlo quando invece si vive una situazione di procreatà di sofferenza di povertà quando è inverno quando non è nulla da mangiare quando non sai come ripararti dal freddo quando non dormi e ti trovi schiacciato etichettato e evitato da tutti allora capisci che è tutta un'altra cosa parlare di giustizia dignità e di diritti se ne sei privato così come non è la stessa cosa pregare nel sicuro del tempio signore signore lontano dalla quotidianità di chi fa fatica distante dalla storia delle persone e al sicuro dalle fragilità dalle povertà e dalla miseria che piegono l'esistenza dobbiamo educarci a leggere i bisogni come diritti disattesi ad imparare a rendere ogni povertà trasparente del suo diritto negato lo spirito del signore è su di me questa parola oggi si compie anche per noi anche per te povero escluso abbandonato affamato oppresso anche tu ascolta gioisci questa parola si compie in te e per te non chiuderti non nasconderti non vergognarti non disperare tu con la tua presenza con il tuo rialzarti con la tua dignità di fratello puoi annunciare al mondo che il Signore ama si prende cura di tutti non abbandona nessuno tu con la tua capacità di leggere la storia dalla parte di Dio puoi guardare con tenerezza tanti che si sentono abbandonati e che hanno perso il senso della giustizia tu puoi insegnarmi ad amare tu puoi insegnarmi a condividere la vita tu puoi insegnarmi a rialzare tu puoi insegnarmi la speranza tu puoi indicarmi il futuro tu puoi ricordarmi che resta l'amore carissimi tutti è giunto il momento di dare tutta la vostra disponibilità perché le nostre comunità possano ridisegnare il volto di una chiesa che vive radicata in questo tempo in questo territorio capace di abbracciare la condizione le speranze le difficoltà di tutti i suoi figli siete voi il suo sguardo missionario come rami innestati nella vera vita che è il Signore Gesù siete chiamati a portare i frutti di carità di speranza di ascolto di annuncio ovunque il Signore stesso opera con noi non siamo soli ci chiama ci manda senza dimenticare mai che l'opera di Dio è più grande di noi e ci precede sempre ci sentiamo in questo momento in comunione con tutta la Chiesa che sta vivendo la sinodalità come programma fondamentale obiettivo e fine del rinnovamento pastorale la cura della personale spiritualità dello stare davanti al Signore sarà la vera forza del rinnovamento abbiamo bisogno di radicare il nostro sguardo nello sguardo del Signore vivere la comunione con Dio e con i fratelli come dono significa assumere la sinodalità come stile il cammino della Chiesa sinodale si concretizza allora nell'essere Chiesa che intercetta che va incontro alle fragilità una Chiesa che non ha paura di percorrere le strade difficili e più strette che sa gioire e condividere commuoversi e meravigliarsi una Chiesa più che assertiva discepola della fragilità perché una Chiesa ferita è una Chiesa capace di ascolto ed è una Chiesa capace di stare in piedi non la Chiesa che giudica o la fa da padrona sulla fede degli altri ma la Chiesa della compassione la Chiesa che serve perché entra nelle case non parla da fuori da come parla soprattutto dei lontani dei cosiddetti lontani capisci se una Chiesa li conosce o no Chiesa sorella che conosce l'arte di rallentare il passo e porta nel suo cuore la fatica dell'ultima pecora quella gravida quella ferita perciò vogliamo credere in una Chiesa che abbraccia tutti dove ognuno possa trovare riparo dove ognuno possa sentirsi accolto compreso amato crediamo in una Chiesa attenta attenta alle diversità delle lingue delle culture dei carismi che sono nulla senza la carità attenta ai tempi che cambiano a qualsiasi tipo di segno abbiamo bisogno di fatti di orme che traccino un cammino che segnino un sentiero di un sogno che dia speranza a tutte quelle persone che curvate portano sulle proprie spalle croci che si fanno ogni giorno sempre più pesanti dove tutto ciò che rimane è quel dolore che lacera dentro e allora la Chiesa può sognare anche per loro deve mettersi accanto a loro e condividere il peso della sofferenza e della solitudine annunciando quanto di bello il Vangelo ci dice contagiati dal Vangelo cioè contagiati dalla vita impariamo ad essere attenti all'altro ad ognuno e a ciascuno a valorizzare ogni singolo talento una Chiesa che valorizza e una Chiesa che si arricchisce non di tesori ma di carità una Chiesa che si fa icona di servizio che si lascia ispirare e che è aperta sempre aperta per essere e fare esperienza di evangelizzazione e allora Chiesa di Napoli sogna non avere paura di sognare sorridi abbraccia accarezza si strumento d'incontro si ala di riserva di ciascuno coraggio allora alzati ti chiama e ascolta ascolta tutti e fallo soprattutto sulla strada come questa sera in questa piazza ho sempre pensato che parlare di strada significa parlare di vita perché la strada è il luogo dell'incontro tra Dio e l'umanità tra gli uomini e le donne il punto in cui il cielo e la terra si incontrano nel Vangelo la strada è lo spazio della manifestazione del risorto pensata ai discepoli di Emmaus e quasi tutti gli incontri di Gesù accadono sulla strada Bartimeo la Samaritana l'Emorroissa Matteo Zaccheo e addirittura sulla piazza la Pentecoste cioè tutto avviene fuori dal recinto del Tempio con il linguaggio di chi vive sulla strada sentirai chiesa che ogni storia sulla strada è intrisa di speranze di sogni di desideri e tu puoi essere segno della tenerezza di Dio perché è Dio che si ferma accanto ad ogni uomo ad ogni donna e li cerca in tutta la loro bellezza soprattutto quando è attraversata dalle ferite il Signore non abbandona mai e vive con noi dentro ad ogni condizione umana portare la sua carezza questo ci è chiesto portare la sua presenza lì dove lui è già presente una carezza che infonde coraggio a chi vive nella paura una carezza che doni speranza a chi è avvolto nell'ombra della delusione e della rassegnazione una carezza che indichi la via a chi è smarrito una carezza che rianimi la forza in chi è stanco e scoraggiato una carezza che faccia sentire meno solo il fratello o la sorella abbandonata o demarginata una chiesa che riempia di presenza il nostro presente una chiesa che così annuncia il risorto non possiamo vivere senza il Signore non possiamo vivere senza i fratelli è la chiesa che sa fermarsi ed aspettare perché nessuno resti indietro è la chiesa che sperimenta l'umanissimo travaglio della perplessità della preoccupazione e condivide con tutti la più lancinante delle sofferenze l'insicurezza una chiesa si cura solo del suo Signore e per il resto debole fragile bisognosa di tutto è la chiesa del Vangelo affidiamo questo sinodo al Signore della vita affidiamogli gli appuntamenti l'attesa di ritrovarci insieme sapendo che Lui stesso ci attende per fare piena la nostra gioia affidiamogli la storia questo tempo che si apre perché ne possiamo riconoscere la grazia trasformiamo questo tempo in kairos perché la condivisione di un progetto diventi condivisione di senso di vita di salvezza donata a Maria che ha fatto dell'attesa il suo sì grembo per Dio e per tutti i Suoi figli chiediamo di custodire in noi l'ascolto la cura il desiderio il sogno di Dio lei che è beata perché è amato o sperato e creduto doni al nostro cuore la capacità di infinito il Signore infonde in noi la gioia di un nuovo inizio la pazienza dei piccoli passi il coraggio di osare uno sguardo profetico che sappia riconoscere i segni del regno presente e la speranza promessa Dio vi benedica Dio benedica questo nostro cammino benedica questo nostro sinodo Amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti